Perchè non dormi un po'? Non ho sonno. Ci sono le stelle cadenti. Quelli sono satelliti, no? Oh mio Dio! Non so cosa diavolo sia successo. È andata via la corrente ovunque. Macchine incluse. 15 ore fa è successo qualcosa. Non sappiamo cosa lo ha causato. O perché è successo. Sappiamo solo che nessuno di noi riesce a dormire. Dopo 48 ore di veglia c'è una perdita del pensiero critico. Sarà un caos totale. Ora il vostro cervello si sta gonfiando. E moriremo tutti quanti. Se non troviamo... Andiamo, andiamo via, presto! Ci sto provando! Mani in alto! Avanti! Non sparati! In ginocchio! Ok, non sparati! Alza le mani! Io riesco a dormire. Riesco a dormire. Dobbiamo portare tua figlia ad amarti. Potrebbe essere la chiave. Dovremmo sacrificarla. Matilda è mia figlia e adesso verrà via con noi. Deve essere forte, ok? Noi non ci arrendiamo. Vai subito a terra! Nessuno ci sta attaccando! Venete! La sopravvivenza di tutti dipende da Matilda. Mettiamoci al lavoro. Non sopravvivenza di tutti. Non sopravvivenza di tutto. Noio! 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 Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. Youtube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite non perdetevi il nostro blog blog.screenweek.it volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone apple o android scaricate le nostre app screenweek e screenweek tv sono gratuite ciao